se volete comprare giochi a bassissimo costo passate nel link in descrizione su istangaming.com ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video un nuovo episodio dei run and gun moddati serie seguitissima e con noi oggi ospitiamo finalmente Theology bene ragazzi qua Theology ben tornando in questo video di Alex che sono qua ospite abusivo abusivo si non hai pagato per venire qui come i mercanti in piazza Cavour signori minchia ragazzi ovviamente superiamo i 100 like per questo video perché mo c'è Theology quindi immaginate il mercato di nuovo mi raccomando iscrivetevi al mio canale che è la cosa più importante ecco se lo dice da solo quindi link in descrizione passato dal canale di Theology assolutamente e direi di partire subito con il video ok ragazzi si parte siamo qua nel run and gun moddato possiamo già vedere i cusi dalla coca cola gonfiabili qua sempre di kunimod famoso modder che fa tutti questi run and gun particolari oh ma ho una pistoletta si ovviamente con le pistole vai il primo l'abbiamo manco le carabine si possono permettere no non metto più con sedute perché iniziano a usare i lanciarazzi poi perché poi basta che perdono iniziano oh ecco dal lato non lo so dai le pistole come non si sa le pistole ma che cazzo le usa le pistole dai io faccio la negan con le pistole con lo normale classico comunque ale ale son due dove? di qua dove sono io vai a occhio oh e l'ho preso in testa e dopo che io l'ho preso in testa mi ammazza lui i micro lag della partita normale cazzo sto morendo ale ale aiuto ale aiuto tranquillo arrivo io ale aiuto ale ale mi stuprano madonna sono dei preti ale ti ho detto che questo xx king è forte qua cazzo ma com'è stavo andando stavo camminando in avanti e mi uccide ecco come cazzo fa no come cazzo fa no vedi che qua c'è il lag quello ale il testa storone oh mo salgo sopra e campero cazzo mene madonna con l'ag no ce l'ho messo lo blocco che stronzi oh che cos'è che hanno fatto? hanno messo il blocco per salire sopra e quello salito sopra fa l'agab invece no ecco vedi questo bastardi vanno insieme così sparano in due e ammazzano prima eh fermo andiamo insieme anche noi figa e se ne scappano ma incredibile come se ne scappano ora r1 oh questo è impossibile ammazzare eh questo x king c'ha le capriole tipo a razzo vedi oh lo prendi in testa non si fa nulla guarda ora io mi campero con r1 tu affanculo no oh con l'ag dai ale minchia incredibile adesso io non l'ho visto in queste cose guarda tutto con la pistola tutta la vita mi leva ogni volta che mi spara c'è tipo un colpo boom eh perché ti fa headshot magari mori non so che mi fa headshot ma poi non sbaglia un colpo questo è il problema c'è uno e 27 è lagga oh ma è incredibile lo prendi in testa vedo lo scatto del lag mi fa la capriola dopo ma perché devo ammazzare tutti occhio mori bastarda headshot bitch minchia dai raga allontaniamoci la visuale qui oh in due li provo mori la prendi in testa e mi fa la capriola ah 13-13 recupero ragazzi il recupero il recupero ragazzi oh io cerco di non morire quello che posso fare non giunta lui sta correndo e basta io sto dietro da ale coprimi dai eccoli ma già con le carabine me la posso chiamare ma con i pistoletti no ma non mi freghi più ma che cazzo mi inculi tutte le kill si mi sta toccando i neri di quella ma non mi prende le infatti due con la cosa bianca che cazzo mi ha fatto airshot da mille mila mille mila chilometri si ma te l'ho detto che è strana questa che già di regola su gta i colpi da lontano non dovrebbero arrivare diciamo così ma vabbè vabbè io apro prendi evidente il tasto si può disattivare il touchpad perché mi apre l'invento mi apre l'invento delle armi a caso che cazzo c'è davvero no che se ti strusci sul touchpad ti apre l'inventario no delle armi e qui ci struscio per sbaglio sul touchpad cazzo mi dava una sponda vedi la tattica di questa ah ma lei cosa fa mi aggira così io non la riesco a mirare diciamo e lei mi aggira da dietro che bastardo ma proprio che campero male cazzo sono riuscito a morire dal camperato el strombassador strombassador madonna uno dall'altro uno dall'altro cazzo questi mi stuprono e la prendi in testa oh vedo il sangue che esce dalla testa ma non muore guarda con lag ma è l'unica che lagga e poi perché ragazzi io poi devo dire che queste sono persone forti però laggano perché non mi tocchi i nervi e vabbè cioè non riesco a capire cioè teo allora io dico qui mica sono forti però laggano capito ma guarda che mi campero bene io bastardo oh scorta non so giocare ma che cosa 21-21 ragazzi attenzione attenzione oh la nave c'è la nave sopra hai visto il relitto che cazzo è oh ma non trovo più l'altro oh Ale doppia doppia Ale grande oh non trovo più l'altro personaggio dove Cristo sta ecco via via madonna manco il tempo di fare Capri quella già mi ha preso incredibile dai raga andiamo ma che cazzo io stavo correndo dentro il muro questo mi ha ammazzato si ma è tutto una moda diciamo oh madonna la precisione un colpo boom e muoio cioè è veloce proprio dove Cristo sta quell'altra l'altra ragazza ma mi ha ammazzato mentre ero in Capriola questo si ma è lag cioè prima tipo lo sparo in testa mi fa lo scatto del lag e poi mi ammazza lui e poi devo dire che sono persone forti si è forte va bene ma se lagga non è più forte ma è grazie al lag che vince abbiamo usato in serie di morti guarda quanti colpi oh non muori guarda quanti colpi le ho dato tipo uno due tre quattro mi ammazza lì dopo dopo che esce sangue dal suo corpo non c'è tu anche il bitch grazie l'avevo tolto tutta la vita oh ma non c'è più dove sta l'altro giocatore è buza ha fuggito ma dove cacchio sta l'altra chiama l'est allora c'è bella manuel quella là non esiste non c'è più una mappa siamo solo contro questa qua col cappellino che mo' si è nascosta dai andiamo guarda il primo è sparita è sparita non esiste è molite oh raga non c'è più oh mi chiamo l'ester cassa no ma perché fate così ma perché vi andate a nascondere dai perché sennò possono perdere capito ma sta già è giusto e mo' si nasconde così non la killo più e vince visto che sta a 27 ah ho risolto madonna oh ma quel tempo di fare la capriola cioè mi prende in un colpo pure quando sta correndo cioè incredibile oh quell'altro non c'è sul radar non c'è non ci sta ma sta nella partita guarda mi esce non c'è ma non c'è non c'è salve cazzo non si viene a costruire presa in un colpo visto che questa usa la tattica che se ne viene vicino così poi mi dà la botta in testa capi dai oh se riusciamo tipo a raggiungere il punteggio non cazzo è Ale Ale ecco sponata davanti non muori ah oh Ale 2 kill 2 kill 2 kill 1 kill 27 no no dobbiamo vincere ecco è camper guarda che si mette al lato vedi che si nasconde dai 28 28 dai 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 Ale 38 secondi ti dico io dove nasce no cazzo mi è andato via il giocatore di tre levati cazzo sei andato via è finito il tempo dai non lo so ragazzi dove stai non lo so sfida l'ultimo sangue sfida l'ultimo sangue oh se chiamo l'essere di nuovo oh preso vai 29 28 vai Ale nasconditi Ale nasconditi dai raga nasconditi ragazzi no oh non c'è sul radar si è nascosto al radar si è nascosto al radar non c'è sul radar Ale 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 non è possibile Ale grande Ale si è buggato il ditmatch non si conclude vabbè andiamo a ammazzare la gente andiamo a ammazzare non si conclude ragazzi mi sta uccidendo oh l'ha ammazzato di nuovo no raga si è buggato il ditmatch aspetta abbiamo vinto noi comunque abbiamo vinto noi abbiamo vinto ragazzi conta Ale Z in serie positiva se ne ha nato è crashato è crashato ragazzi abbiamo vinto ragazzi abbiamo vinto però qua non si capisce nulla ragazzi Ale Z in serie positiva mi sta spammando tipo questa cosa che cazzo ma non lo so guarda che cazzo c'è bello Ale vabbè ragazzi concludiamo si è buggato il ditmatch non si conclude ma abbiamo vinto si è spammato serie positiva che cazzo anche la puttana di merda puttana quindi ragazzi per questo video è davvero tutto qua si è buggato abbiamo uno forte ma anche che laggava magari era solamente forte senza lag che poi magari moriva un po' prima diciamo così ringrazio teologi per lo sclerius finale incredibile veramente passate dal suo canale e non siamo con le mod quindi incredibile infatti e ragazzi passate dal mio canale mi raccomando importantissimo il contest è sempre aperto ve lo lascio in descrizione il contest è sempre aperto ovviamente per partecipare vi ricordo che dovete iscrivervi anche al mio canale perché se non vi iscrivete si controlla e vi si are il culo madonna è proprio pesantissimo non vi si fa a vincere condividete questo video ovviamente su i social ovviamente commentate e 100 like assolutamente quindi per questo video è tutto noi ci vediamo al prossimo video bella raga bella